a testa d'ingio ringrazio molto la mia persona per la fiducia accordata con l'incarico di formare il nuovo presidente della repubblica intendo adempiere a questo compito con grande paese e di servizio verso il nostro governo in un momento di particolare difficoltà l'italia in un quadro quadro europeo e mondiale turbati il paese deve vincere la sfida del riscatto deve tornare ad essere e deve essere sempre di più elemento di debolezza non di forza di un'unione europea di cui siamo stati fondatori e di cui dobbiamo essere fondatori lo dobbiamo alla mia persona dobbiamo dare loro un futuro concreto di dignità e di speranza che schifo non si rammollisce mai un saluto a tutti gli attori di hd siamo finalmente insieme a un confronto tra galaxy s2 e galaxy s2 conviene passare da galaxy s2 a galaxy s2 conviene mandare in pensione in galaxy s2 si partendo dall'hardware abbiamo l'hardware abbiamo qua 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 fotocamera da 8 megapixel a nostro giudizio chi compra un galaxy s2 fa molto bene a comprare un galaxy s2 praticamente uguale soltanto che ha lo schermo hd da 8 megapixel entrambi montano un sandwich alla ui pinch to zoom menu home touchwits lancer superamoled dlna nfc try led swipe skin telefonica question sandwich tab hub software dropbox share play user experience widget suite s memo internet android blog browser plugin flash scroll render doppio tap display multitouch gps dual core xinose 1 giga e 2 il processore i soft touch hai capito? io non ci ho capito una parola